Botta e risposta tra maggioranza e opposizione a Terram per la costruzione di un nuovo supermercato in Viale Crispi. Un corposo intervento che interesserà uno spazio di circa 6.500 metri quadri in gran parte di proprietà di un privato che da tempo ha raggiunto l'accordo per la vendita del terreno al gruppo tedesco a cui fa capo il noto marchio di supermarket. L'intesa però presuppone anche la cessione di un'area comunale di poco superiore ai 2.000 metri quadri. A sollevare il caso è il consigliere di Cittadini in Comune Osvaldo Di Teodoro che accusa l'amministrazione comunale di non aver coinvolto i residenti nel piano di riconversione dell'area. Immediata la replica da parte dell'assessore all'urbanistica Graziano Ciapanna. Vorrei rispondere al consigliere Teodoro che probabilmente che passa in consiglio si tratta di un intervento, diciamo una proposta che parte dal privato che va a realizzare una scheda di piano, cioè delle attività già proposte sul nostro piano regolatore. Pertanto la cittadinanza a suo tempo è stata già interessata laddove è stata fatta l'assessore del piano regolatore con le osservazioni fatte appunto all'epoca dell'assessore del piano regolatore tuttora vigente. Argomento che verrà trattato anche durante il prossimo consiglio comunale in programma per il 30 marzo. La proposta è portata in consiglio comunale più che altro per lì c'è anche un'area comunale per la vendita da quest'area comunale che comunque andrà con una procedura di evidenza pubblica. Il progetto prevede che oltre alla struttura commerciale siano allestiti i parcheggi, un'area verde e un percorso pedonale tra via Lecrispi e la retrostante via Tevere. Si andrà a riquificare un'intera zona, si andranno a realizzare tutti quegli standard qualitativi e quantitativi previste nelle schede di piano tra cui dei parcheggi, delle aree verdi e uno spazio attrezzato polivalente dal punto di vista sportivo.